ciao ragazzi di nuovo insieme allora in questo capitolo andiamo analizzare quelle che io ho chiamato linee geniali di john e oggi voglio parlare di un brano che in realtà la linea è basso e molto semplice però credo che non esista alcuna persona al mondo che non abbia negli orecchi questa linea si tratta di a kind of magic dall'omonimo album quindi siamo nel 1986 e john prendiamo solo dei pezzetti dei brani altrimenti non viene un libro ma un mattone prendiamo i piccoli pezzetti e andiamo a analizzare nota per nota su quale accordi sono stati costruiti allora il brano è stato scritto da freddy e le accordi diciamo della parte che volevo prendere in esame sono re maggiore la maggiore john inventa questa linea sfido chiunque a riuscita a non farsela rimanere in testa questa linea poi è un po diciamo varia un pochino durante il brano eccetera 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 cosa ha fatto praticamente su due accordi fa esattamente la stessa cosa partendo ovviamente dalla tonica del relativo accordo quindi sul re suona è una linea molto classica degli anni 70 80 80 di basso parte dalla tonica appunto suona tonica sesta maggiore questo caso è un z naturale e la quinta o la quarta sotto la naturale la quinta e il mento e la quinta maggiore antica è qualcosa da not Report maggiore Se ascoltate anche ad esempio live a Wembley, è una linea molto efficace, anche a un punto in cui rimane proprio da solo, quindi si sente molto bene, oppure anche quando c'è il lungo solo di chitarra di Brian May, lui non perde un colpo con questa linea e quindi l'ho classificata come una di quelle linee appunto geniali. Quindi questa era la prima che mi è venuta che mi ammette, non so se andrò in ordine alfabetico o casuale, ma trovate tutto scritto nel PDF e come sempre per qualsiasi domanda scrivetemi. Grazie mille e al prossimo video! Grazie! 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 Grazie!